Per il mio quartiere io vorrei... 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 Io mi candido... Io mi candido... Io mi candido... Se hai più di 16 anni e sei residente a Parma, ti puoi candidare per il tuo quartiere dal 2 al 17 marzo e partecipare alle elezioni ad aprile. La città la cambiano i cittadini. Costruiamo insieme il futuro di Parma.